Benvenuti nel mondo di Deep Blue. Deep Blue è un marchio di orologi statunitense fondato nel 2007 da Stem Betesh, il quale ha creato una linea di orologi subacquei di alta qualità. Oltre agli orologi subacquei, il marchio produce anche orologi per l'aviazione e per l'uso quotidiano, offrendo una vasta gamma di funzionalità e design per soddisfare le preferenze dei clienti. Gli orologi Deep Blue sono progettati per resistere alle condizioni estreme, come l'immersione subacquea a grandi profondità. Infatti, la linea di orologi subacquei Deep Blue offre una ghiera girevole unidirezionale, quadrante altamente leggibile e una resistenza all'acqua fino a 3000 metri. Questi orologi sono adatti per chi cerca un prodotto di alta qualità che possa garantire le massime prestazioni anche in situazioni estreme. L'azienda utilizza solo movimenti svizzeri di alta qualità, come quelli prodotti da Eta e Sellita. Ciò garantisce che gli orologi Deep Blue siano affidabili e duraturi nel tempo, oltre ad avere un design accattivante e moderno. Deep Blue Watches ha guadagnato una solida reputazione tra gli appassionati di orologi grazie alla sua combinazione di qualità, funzionalità e prezzo accessibile. Infatti, il marchio si distingue per la sua ottima qualità-prezzo, offrendo prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. In sintesi, Deep Blue è un marchio di orologi di alta qualità, che si distingue per la sua combinazione di funzionalità, design accattivante, movimenti svizzeri di alta qualità e prezzi accessibili. Grazie alla sua reputazione e alla vasta gamma di prodotti disponibili, il marchio è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di orologi in tutto il mondo.